Dalla fine del mese di agosto fino ad oggi, centinaia di controlli sono stati effettuati in tutta la provincia eblea da parte della Polizia di Stato, anche con il supporto di equipaggi del reparto Prevenzione e Crimine di Catania, controlli di cui a Vittoria si inizia a tirare le somme ed elencare i risultati, maggiormente attenzionati i luoghi di ritrovo le vie e le piazze principali del centro cittadino, contrastando i fenomeni di illegalità diffusa e inalzando i livelli di sicurezza. Come sempre, grande attenzione è stata dedicata al contrasto ad ogni tipo di droga e in tale contesto sono state sanzionate in via amministrativa tre persone per uso personale di sostanze stupefacenti, sequestrati circa 4,4 grammi di hashish e 187 grammi di marijuana, parte dei quali a carico di ignoti che avevano nascosto la droga nei posti più impensabili della città. Inoltre, durante un posto di controllo in piazza Manine la sera di martedì scorso, un'autovettura ha anche tentato di fuggire all'alto, intimato dagli agenti che però hanno fatto in tempo a prendere il numero di targa ed effettuare i dovuti accertamenti. A scappare è stato un minorenne, privo quindi di patente di guida e con l'autovettura senza revisione e assicurazione. A pagare sulle bravate del figlio è stata invece la madre, sanzionata a norma di legge. Sabato, sempre in piazza Manine, un'altra autovettura ha tentato di fuggire all'alte dei poliziotti, ma anche in questo caso il responsabile è stato subito individuato e sanzionato all'esito del primo periodo di intensi controlli, dall'ultima settimana di agosto fino a tutta la settimana appena trascorsa sono state identificate 613 persone, controllati 343 veicoli e oltre 5.000 targhe con il sistema automatico, 31 invece le sanzioni e 10 veicoli sequestrati. Alla luce dei risultati conseguiti, tali servizi straordinari che sono tuttora in corso proseguiranno anche nei prossimi giorni con una più massiccia presenza di pattuglie della Polizia di Stato per le strade cittadine.